Amici del software libero open source, benvenuti in questo nuovo video che è dedicato questa volta a PopOS alla versione 21.04 di PopOS per la precisione, versione che è ancora in sviluppo, che ancora non è stata rilasciata in sottoforma di beta pubblica ma che è possibile installare facendo un upgrade manuale da PopOS 20.10 a PopOS 21.04 andando a modificare a mano i repository sapete bene chi mi segue che apprezzo molto PopOS, apprezzo molto i lavori che stanno facendo gli sviluppatori per rendere Gnome Shell più umano, più semplice da utilizzare e sapete bene che non vedo l'ora di metterci le mani su se seguite il canale Telegram di Marcosbox sapete che qualche settimana fa ho provato a fare lo stesso aggiornamento manuale per poter installare Cosmic, che è il nuovo ambiente desktop di PopOS 21.04 che adesso andremo a vedere e ho provato a fare l'aggiornamento manuale appunto dalla 20.10 alla 21.04 e il primo tentativo è fallito miseramente perché non erano state ancora aggiunte tutte quante le dipendenze fortunatamente adesso a distanza di una settimana tutto è funzionato, tutto ha funzionato correttamente c'è messo un'eternità per fare l'aggiornamento dalla 20.10 alla 21.04 comunque c'è anche il fatto che installo Linux su hard disk meccanico quindi se volete fare anche voi il passaggio si può fare e in dolore non ho avuto errori questa volta nell'aggiornamento è soltanto lungo e tedioso quindi se avete un hard disk meccanico lanciate l'aggiornamento e andatevi a fare un caffè andatevi a godervi la vita là fuori se siete in una zona dove si può uscire comunque iniziamo a parlare di Cosmic, Cosmic che cos'è? ve ne ho parlato qualche settimana fa sulle pagine Marcosbox e la nuova interfaccia grafica, il nuovo ambiente desktop per così dire di PopOS che sarà di default su PopOS 21.04 il rilascio di PopOS 21.04 è previsto per giugno quindi tutto quello che vedete in questo video è soggetto a eventuali modifiche perché Cosmic è ancora in fase di evoluzione e quindi si presuppone che Cosmic Desktop potrà variare nella versione finale che verrà rilasciata con PopOS 21.04 io comunque come ho detto l'ho installato perché ero molto curioso di vedere questa nuova implementazione pensata dal team di PopOS di Gnome Shell sapete bene che io Gnome Shell non l'apprezzo tanto nudo e crudo perché mi mancano alcune cose come per esempio gli indicatori nella tray come la possibilità di avere le icone, cioè una doc per poter andare a avere le icone sempre visibili sempre presenti e quindi di conseguenza ogni volta che installo una distribuzione che fa uso di Gnome Shell nella versione quella più nuda e cruda come Fedora, come OpenSource, come Arch Linux vanno sempre a installare una serie di estensioni per andare a sopperire a queste mancanze Ubuntu, PopOS ma anche Manjaro vanno a installare una serie di estensioni che vanno a colmare queste lacune che io apprezzo molto questa scelta da parte di queste distribuzioni di andare a personalizzare Gnome Shell per renderla più facile nell'utilizzo desktop soprattutto più facile nell'utilizzo con mouse e tastiera direte voi perché la Gnome Shell mi ha sempre dato l'impressione che è una interfaccia pensata per l'utilizzo con tablet ditemi quello che volete comunque andiamo a dare uno sguardo a PopOS come potete vedere quando abbiamo PopOS 21.04 quello che ci pare davanti è un layout con un pannello superiore il classico pannello di Gnome Shell e una doc in basso andiamo a vedere che cosa c'è, quali sono gli elementi dell'interfaccia grafica di Cosmic in alto a sinistra abbiamo un collegamento agli spazi di lavoro quindi cliccandoci da sopra è possibile avere gli spazi di lavoro bisogna avere anche l'interfaccia, mostra applicazioni con l'exposé l'hot corner è disabilitato per impostazione predefinita cosa buona e giusta perché se no uno ogni volta che ci fa con mouse partiva l'exposé quindi dobbiamo fisicamente cliccare ed è una cosa che io apprezzo molto abbiamo poi la possibilità di andare a vedere tutte quante le applicazioni così come abbiamo su Gnome Shell in alto a destra abbiamo il solito gestore delle tile le icone nella tray che è la cosa che io amo di più non so perché mi ha installato, mi ha messo anche la lingua giapponese non fateci caso della tastina, devo ancora capire perché e poi vabbè la classica interfaccia di Gnome Shell spostandoci sulle finestre come potete vedere di default adesso abbiamo il tasto minimizza che è preabilitato quindi un'altra modifica che ci lascia presupporre come gli sviluppatori si siano concentrati anche sull'utilizzo mediante mouse per quelli che amano il punto e clic in basso nella dock che per impostazione predefinita è così come appare a schermo quindi con una dock ampia con le icone pinnate ma sono allineate tutte quante al centro abbiamo una serie di nuove icone come potete vedere la prima, Show Launcher cliccandoci è possibile andare a avviare che ne so, una qualsiasi applicazione possiamo farlo digitando il nome dell'applicazione in questo caso prendiamo Synaptic e noi andiamo a lanciare Synaptic adesso facciamo a nuca avete avuto modo di dire un'altra cosa quando andiamo a avviare Monster Launcher vedete questa ombrettina gialla allora praticamente adesso se noi vogliamo andare a lanciare una delle finestre che sono già in esecuzione quindi ad esempio File Manager o ci clicchiamo da sopra quindi lanciamo il File Manager altrimenti se siete utilianti che amano spostarsi con la tastiera potete spostarvi con la tastiera o se volete, che ne so, avviare direttamente volete passare, ne so, a Google Chrome c'è la scorciatoia che vedete scritta qui Google Chrome corrisponde in questo caso a Ctrl 3 e andiamo a massimizzare la finestra quindi andiamo a gestire il tutto facilmente sia da tastiera che da mouse l'altra applicazione è Mostra Workspace quindi il duplicato di questa non so se alla fine manterranno tutte e due e infine abbiamo Mostra Applicazioni quindi il funzionamento, come ho detto, è ottimo e funziona bene sia da mouse che da tastiera quindi accontenta sia gli amanti dei punti e clic come me che i nerd ad Ascolto ma adesso andiamo a vedere quali sono le personalizzazioni che sono state fatte in Cosmic che sono state aggiunte per gestire tutta questa interfaccia andiamo ad avviare impostazioni di sistema e vediamo che c'è la voce desktop cliccando qui abbiamo questa nuova interfaccia nel primo campo sfondo è ovviamente possibile personalizzare lo sfondo di sistema quindi possiamo andarci a mettere il nostro wallpaper preferito cliccando su desktop andiamo a vedere alcune le prime personalizzazioni come potete vedere prima ci consente di personalizzare l'azione predefinita del tasto super il tasto super sarebbe quello Windows per impostazione predefinita se premiamo il tasto super abbiamo che si avvia il launcher per avviare le applicazioni quindi il default prevede questo possiamo comunque modificare il comportamento del tasto super avviando che sono i workspace o avviando applicazioni quindi possiamo fare quello che più ci aggrada lot corner è disabilitato per impostazione predefinita comunque possiamo andare a personalizzare qui possiamo andare a nascondere eventualmente workspace e applicazioni perché nella top bar è possibile spuntare la voce per esempio per nascondere applicazioni o per nascondere giusto modo che ho cliccato per la serie tv verità eccoci se avete avuto modo di vederne il precedente ispezione di video si è interrotto tutto bruscamente ecco l'assato OBS perché si è riavviata la shell dopo che sono andato a spegnere la possibilità di avere il collegamento ad applicazioni in alto a sinistra quindi adesso evito di farlo durante la registrazione per evitare di incappare nuovamente del pack comunque ci siamo capiti qui bug del primo minuto permettendo è possibile andare a personalizzare anche il pannello superiore quindi andare a disattivare il nostro workspace e il nostro applicazioni è possibile andare a personalizzare qui la posizione della data quindi spostandola dal centro mettendola a sinistra o a destra e il comportamento della top bar nel caso di più monitor abbiamo poi la possibilità di abilitare il pulsante per massimizzare quindi se vogliamo anche il pulsante per massimizzare possiamo andarlo ad abilitare cliccando su quest'altra voce è possibile selezionare i due temi predefiniti quello chiaro e quello scuro piccola tiratina d'orecchia quelli tipo poi se io continuo a non capire perché nel tema chiaro mettono sto marrone che fa... non lo so fa cazzotti con tutto sarebbe bello se... a utilizzare la stessa tonalità di nero per... o meno nero che poi non è nemmeno nero la stessa tonalità che utilizza il tema scuro per quanto riguarda Rederbar sarebbe bello poterla avere anche nel tema chiaro comunque poi abbiamo la voce per controllare la dock la dock è possibile abilitarla a nasconderla è possibile mostrare la dock sul monito primario o quant'altro come potete vedere è possibile abilitare la funzionalità di nascondimento automatico della dock quindi per avere più spazio ma di default la dock è sempre presente qui è possibile personalizzare l'aspetto della dock per quanto riguarda la larghezza di default come avete avuto modo di vedere occupa tutto questo spazio in basso però se vogliamo una dock simile a una dock alla macOS o le dock come plank e quant'altro spuntando questa voce la dock diventa piccolina ed è anche più carina graficamente vedete è molto più bella riabilitiamo il default così continuiamo nella disamina qui è possibile andare a personalizzare i tasti per il nostro launcher e quant'altro qui è possibile andare a impostare la grandezza della dock quindi di default abbiamo 48 pixel ma possiamo mettere a 36 più piccola insomma a seconda delle nostre preferenze a seconda anche della grandezza del nostro display quindi possiamo andarcela ad adattare al meglio qui è possibile personalizzare invece la posizione della dock quindi di default abbiamo visto che è in basso ma possiamo anche metterla a sinistra oppure cambiare l'impostazione e metterla a destra quindi massima personalizzazione infine abbiamo l'opzione per andare a modificare gli spazi di lavoro quindi il workspace dinamici oppure impostare un numero di workspace massimi che possiamo andare a impostare e altre opzioni per andare a personalizzare appunto gli spazi di lavoro un'altra di quelle cose di cui voglio parlare riguarda il comportamento della dock che vedete allora se è un'applicazione minimizzata nella dock e ci andiamo a cliccare su viene massimizzata non è possibile però fare il contrario quindi se noi andiamo a cliccare con il tasto del mouse su un'applicazione che è minimizzata all'interno della dock e vogliamo minimizzarla non è possibile farlo quindi non c'è attualmente nella dock la possibilità di andare a personalizzare questo comportamento che ci serve che è utile e piace a molti di utilizzare la dock come minimizza-massimizza quindi questa è un'altra di quelle cose che è degna di nota da sottolineare speriamo che aggiungano anche questa cosa perché hanno pensato praticamente a tutto che gli costava mettere una cosa del genere comunque questa è Cosmic Desktop questo è quello che ci aspetta salvo modifiche che arriveranno probabilmente nelle prossime settimane insomma questo è quello che ci aspetta su Propos 21.04 mi piace mi piace questa personalizzazione pensata dal team di Popos è alternativa e ha un suo perché speriamo che riescano a perfezionare ulteriormente l'utilizzo di Cosmic di questa nuova interfaccia grafica e speriamo che sia facilmente portabile anche su altre distribuzioni è facilmente portabile e ve lo dico già da subito perché vediamo se ci sta un'extension ecco qua perché come potete vedere ci sono una serie di estensioni che utilizzate dal team di di Popos per andare ad avere questo risultato e sono l'estensione di Gnome Shell della Ubuntu Dock che è stata modificata l'estensione di Multimonitor cioè una serie di estensioni che già sono presenti su sullo store delle estensioni di di Gnome ma sono presenti anche su altre distribuzioni che sono state forcate che sono state modificate e sono state riadattate per l'utilizzo su Propos quindi è facilmente portabile anche su su altre distribuzioni e di sicuro di sicuro questo ve lo dico ve lo dico subito ve lo dico a tempo zero questa qui verrà portata sicuramente anche su Mangiaro perché non so se avete avuto modo di provare l'edizione Gnome di Mangiaro praticamente quella che offre una serie di layout predefiniti e sicuro mi ci gioco tutto che verrà introdotto anche questo layout layout Cosmic anche nella prossima versione di Mangiaro non appena tutto sarà sarà stabile non appena Cosmic sarà stabile bene con questo concluso lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo in un prossimo video in una prossima puntata del podcast o sulle pagine di Marcosbox ciao ciao